Manuel Cotelo, finalmente, giornalista, volto noto della televisione spagnola, attore di serie televisive, di programmi, poi documentarista, regista, produttore, distributore di te stesso, sei un personaggio noto nel tuo paese, fai parte dell'Accademia delle Arti e delle Scienze di Spagna, però sei anche noto fuori dalla Spagna, perché nei tuoi film parli di Dio, racconti storie che hanno a che fare con Dio, che sono in relazione con Dio, e quindi è molto strano che tu abbia successo. No, non è assolutamente strano. No, non è affatto strano. È un topico. Perché questo è un pregiudizio, pensare che Dio non interessa oggi. Non c'è nessun argomento che interessi di più tutti quanti che Dio. E questo non è un fenomeno nuovo. Il libro più venduto nella storia della stampa è la Bibbia. Il pregiudizio è di dire, ah, questo è già una cosa che è passata, l'uomo moderno non ha più bisogno di Dio, è già autonomo. Non è così. Anzi, io direi che l'acqua è più desiderata dove manca. Non c'è mai stata tanta necessità, tanta urgenza di parlare di Dio, e tanta richiesta universale di parlare di Dio che oggi. Io sono assolutamente d'accordo con te. Diciamo che il successo di solito è decretato dai critici cinematografici, dai media, che non sono così solerti a invitarti dappertutto e a parlare bene di te. Sì, no, non è vero, neanche questo, perché io incontro dappertutto persone molto interessate, persone che vogliono ascoltare quello che io dico. E ci sono costantemente sorprese di persone che dicono, ah, davvero, penso come può quella persona essere interessata. Mi ricordo otto o dieci anni fa, sono stato in una televisione in Spagna per fare un ruolo come attore in una serie, e ho incontrato una donna, una produttrice di serie, di fiction, e quando lei mi ha visto mi ha detto, ah, con Manuel, che cosa fai nella vita adesso? E gli ho raccontato la verità. Ho cominciato una casa di produzione per parlare di Dio. e lei si è messa in piedi e ha detto, cosa? Mi interessa. Allora ho pensato, ma gli interessa a lei? Sì, e siamo rimasti a parlare 40 minuti e mi ha detto, raccontami quando esce un film, informami, perché questo mi interessa molto. Allora sono rimasto a pensare, ma io mai mi sarei detto che a lei le sarebbe interessato questo. Ma è una cosa che avviene costantemente. Ci sono persone che già conoscono l'amore di Dio, magari lo vivono, lo sperimentano da bambini, ma molte persone non lo conoscono. E penso che sono le persone che più lo richiedono, anche se non lo dicono. Non so se conosci un racconto, non so se questo è un adeduto, se è vero o no, ma viene insegnato questo nelle scuole di business. Si dice che un fabbricante di scarpe ha mandato a un ente commerciale in un paese africano e questo commerciante ha chiamato per telefra e ha detto, no, qui non venderemo nessuna scarpa, perché? Perché tutti vanno scalzi in giro. Allora hanno mandato un altro venditore e ha detto, capo, ma le venderemo per sempre queste scarpe? Proprio perché vanno tutti scalzi. Quindi la diagnosi era la stessa, ma uno ha visto nel fatto che andavano scalzi un'opportunità e l'altro ha visto un fallimento. Allora oggi possiamo dire che ci sono molte persone scalze di Dio e per questo stanno chiedendo, per favore, dammi le scarpe. È il modo di mettersi davanti alla crisi, come opportunità o come invece dolore e dramma per la propria vita. Questo vale per tutta quanta l'esistenza. Senti, Manuel, noi abbiamo imparato a conoscerti con la storia di un prete, l'ultima cima, la storia di un giovane prete molto amato dai ragazzi che è morto sul Moncage, in montagna. La montagna è una metafora della vita, naturalmente. Questo prete ti ha cambiato la vita? Sì, proprio oggi. È bello che mi chiedi di lui oggi, perché oggi è il decimo anniversario della sua morte. Giovele con l'un minuto. Io ho parlato con lui un minuto soltanto. Non ero cosciente in questo minuto di quello che sarebbe successo dopo. L'ho salutato, mi ha detto se ti può servire qualcosa, chiedimelo. E io ho pensato, lo ha detto seriamente. Non era così una formalità. E poi ho continuato la mia vita. Non avevo un particolare rapporto con lui, non ho neanche saputo subito che era morto. mi è dispiaciuto personalmente quando la notizia l'ho ricevuta, ma non avevo un affetto per lui, che ho invece oggi. Penso che costantemente Dio ci manda delle opportunità per cambiare la nostra vita in bene. E quella è stata una grande opportunità, un grande dono che è apparso nella mia vita, un dono che io non volevo, perché per sei mesi ho fatto tutto il possibile per non conoscerlo. C'era un amico che mi ha perseguitato per sei mesi e mi ha detto devi conoscere questo sacerdote, devi conoscere io. No, 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 no. Quindi non è l'unica persona che ha cambiato la mia vita. E oggi cerco di scoprire ogni giorno i doni che Dio continua a darmi per cambiare la mia vita, perché questo non l'ha ancora cambiato del tutto. E questo finirà il giorno in cui io potrò dire io ho già un cuore puro, io già do amore sempre. Ma naturalmente questo non è ancora la situazione. Quindi questo cambiamento non è da un momento per sempre. È un cambiamento graduale con la pazienza di Dio, con i tempi di Dio che ti aspetta, e ti invita, ti aspetta fino all'ultimo giorno. A me ha stupito molto nell'ultima cima la libertà, quasi l'allegria nel trattare un tema anche così doloroso, perché era chiaro dall'inizio, insomma, che era il racconto di un uomo che non c'era più, che era morto giovane. Mi ha colpito però molto anche l'originalità nell'usare la macchina da presa, insomma, il modo di raccontare, fantasioso e con questo appunto gusto dell'ironia che è stato tipico della tradizione cattolica, poi è un po' dimenticato, no? Quando, tu fíjate che l'Evangelio guarda che il Vangelo si chiama la buona notizia. si chiama buona novella, buona notizia e le buone notizie si danno con gioia. Nessuno va da te a dirti Monica ho una notizia da darti, hai vinto la lotteria, sei multimiliardaria, no, c'è qualcosa che non va, perché il messaggio non va bene con il tono. Se mi dai una buona notizia si deve vedere che è una buona notizia. quindi non è forzato neanche parlare della morte con gioia, perché Cristo ha cambiato tutto, anche la morte. Quindi ha smesso di essere una cattiva notizia, c'è una parte che ci spaventa perché è un mistero, perché l'incertezza, eccetera, questo ci spaventa, ma la fede cambia tutto in buone notizie. A piccoli passi, a piccoli passi, perché il dolore è uno scandalo che non riusciamo a capire e su cui sorridere è parecchio difficile. Claro, il reto non è intendere, la sfida non è tanto capire, la sfida è amare e la sfida è avere fiducia, perché se dovessimo capire tutto saremmo già abbonati alla tristezza o alla preoccupazione o alla paura, ma la fiducia che permette di piangere e soffrire in pace. Il cristianismo non è Disneyland, non è dire eccoci, adesso non c'è più sofferenza, non ci sono lacrime, non c'è dolore, no, invece ci sono, è chiaro, ma questa stessa sofferenza con la pace e la speranza che Dio ci mette nel cuore cambia completamente. Fuori sembra lo stesso dolore, Cristo sulla croce non sta sorridendo, salutando dicendo tranquilli che non mi fa male, no, Cristo piange, soffre, Cristo ha paura, ma tutto è cambiato dalla conoscenza di Lui che ha un senso, perché non è più assurdo, non è un dolore fine a se stesso e penso che, almeno per me, quando noi cerchiamo di comprendere tutto, allora questo non va bene, dominare tutto con l'intelligenza per poter accettare, no, non lo capisco, ma mi fido di te, come facciamo con il medico, mi fa male, vado dal medico e non so cosa mi dirà il medico, magari mi fa l'anestesia, mi opera, poi mi sveglio e mi dice sei guarito, che cosa ha fatto, guarda, non lo so, fidati di me, quindi non c'è bisogno di studiare medicina per capire tutto quello che ci fanno, no, fidati di me, prendi questa medicina, fai questa dieta e con Dio è la stessa cosa, noi ci fidiamo di Cristo, la ricetta che ci dà per la nostra vita, io posso cominciare a viverla senza capirla, voglio provare ad essere generoso, non capisco perché, magari non voglio essere generoso in una cosa che non mi interessa, ma voglio provare e posso dire guarda, funziona, oppure provo a parlare con Dio, non lo vedo, non lo sento, ma voglio provare a parlare con Lui, a vedere cosa succede nella mia vita e posso sperimentare che davvero funziona. Tu racconti storie in cui si vede che funziona, ho visto i tuoi, come li chiami, film, docufilm, come li chiami? Pelicola, in generale, film in generale, perché non do molta importanza alla classificazione tecnica. Terra di Maria, un'inchiesta sulle apparizioni, sulle apparizioni mariane in varie parti del mondo, una vera e propria indagine, oppure il cammino di Santiago, proprio sulla strada, sulle tracce che portano a Santiago di Compostela. Tu porti lo straordinario nel quotidiano, l'eroico nel quotidiano e il quotidiano diventa eroico. C'è questo legame che dovrebbe essere normale, ma insomma, noi tendiamo a mettere la fede da parte, separata dalla vita. Invece in te si vede la ricerca continua di unire fede e vita. Sì, però non c'è un sforzo che io ha. Sì, ma non è uno sforzo che io faccio, per me è una cosa completamente naturale. Io non cerco Dio lontano dalla mia vita, né nelle circostanze, né lontano dalle persone che incontro. Solo l'incontro lì, dove sono. E ovviamente posso cercare Dio nel Tempio, nei sacramenti. però per me il Tempio è il luogo dove io ricarico la batteria del mio cellulare, ma il cellulare lo uso fuori. Poi uso la batteria e poi torno a caricarla, ma nessuno compra un telefono per averlo sempre all'enciufe. Lì è attaccato alla presa. Quindi, in fin dei conti, dove devo vivere la fede, dove posso trovare delle storie di fede, dove posso trovare l'azione di Dio nel mondo oggi? Per strada. Per strada. Se voglio conoscere che cosa sta facendo Dio oggi, mi basta chiederlo a chiunque, parlami della tua vita, raccontami cosa fa Dio nella tua vita e lì troverò il potere di Dio. Non dal punto di vista storico la creazione dell'universo, no, ma che oggi Lui sta agendo e lo vedo. E la sua specialità è il cuore umano. se io voglio trovare Dio, lo cerco nel cuore umano. Non lo cerco nei libri o nelle teorie o nel pensiero in un salotto, non nel cuore umano che vedo che Lui continua a consolare, continua a rafforzare, a guarire, a dare speranza e lì ho trovato Dio. Dove? Nel cuore dell'uomo. Nel tuo ultimo film sei andato a cercare delle corde più rare, uno dei segni più sconvolgenti, anche per chi non crede della possibile presenza di Dio. Il tema del perdono impossibile. Là dove l'odio e la violenza hanno segnato maggiormente, hanno tracciato dei solchi, delle ferite irreparabili, tra vittime e carnefici, è possibile una riconciliazione e ricominciare a vivere in un'altra maniera. Anche qui ci hai fatto molto sorridere perché la cornice che regge tutte queste storie davvero di dramma è molto leggera, è molto lieve, è molto allegra. Come si fa a ridere del male, Manuel? Mira, non mi rio del male. Guarda, io non è che rida del male, io celebro la festa. Tutte le storie di perdono, terminano con una festa e io comincio da lì. Questa festa ti dà speranza. Tutte le storie di perdono cominciano male, tutte quante. Qualcuno ha fatto male a qualcun altro. Ma non è questo il punto finale. Io non posso solo mettere la cena in presa lì questo ha rubato, questo ha mentito, questo ha ucciso. No, raccontami la fine. Sono amici, erano nemici. Compra il vino e tira fuori, apri lo champagne e andiamo a ballare. Questo è il perdono. Quindi non è una cosa forzata che un film sul perdono sia gioiosa. Perché io ho visto la festa, il ballo, la musica, il cibo di persone che erano nemiche prima. E questo succede con tutto quello che ha a che vedere col Vangelo. Il Vangelo è una festa. Quindi, se guardiamo a Papa Francesco che è così immaginativo nello spiegare le cose, una cosa del genere, che non possiamo essere cristiani se noi rimaniamo soltanto sulla morte di Cristo in croce. Ah, Cristo è morto in croce, Cristo sulla croce. Sì, ma sai che poi è risuscitato. Allora comincia a celebrare la festa. Quindi la festa non termina con la morte di Cristo, termina un po' dopo. Quindi con il perdono succede questo. Se fosse stato un errore grave, essenziale, di fare un film sul perdono triste, questo sarebbe stato un errore. Voglio vivere, voglio, ho vissuto una cosa in Colombia, adesso te la racconto, ho vissuto a casa di una persona come gli ho accompagnato una persona che aveva ucciso il figlio di una famiglia. Allora, prima di arrivare a questa casa gli tremavano le mani letteralmente e lui mi ha detto lo ha fatto un'altra volta. Gli ho chiesto perdono di nuovo ma mi costa molto. Aspetta, aspetta, vado io per primo. Allora sono arrivato a casa, c'era la donna, due figlie e non sapevo come dire che c'era quest'altra persona con me. E ho detto ah, che bella giornata, c'è il sole e la donna mi ha detto digli che venga perché questa notte io ho sognato che Gesù mi diceva che tu saresti venuto qui con l'assassino di mio figlio allora digli che venga. Allora sono tornato dalla macchina e gli ho detto vieni ti stanno aspettando e siamo entrati. Allora lui è arrivato a casa aveva una chitarra come regalo perché sapeva che uno dei figli suonava la chitarra e lui ha detto solo hola salve. La donna, la madre della persona che lui aveva ucciso si è alzata l'ha abbracciato forte guardandola negli occhi gli ha detto questa è casa tua io sono tua madre tu sei mio figlio cosa vuoi bere? Ha tirato fuori un succo di frutta tu suoni la chitarra prendila e cinque minuti dopo stava suonando la chitarra stavano cantando stavano mangiando con una gioia impressionante che io dovevo cercare di non piangere per filmare perché mi cadevano le lacrime io dicevo come posso raccontare questo nella prospettiva della festa della gioia io posso allungare il racconto lui è andato ha ucciso il figlio hanno sofferto sì ma passiamo rapidamente su queste andiamo alle cose importanti tutto questo non sembra folle impossibile oppure il sogno di pochi è impossibile sì è impossibile non solo sembra ma è impossibile per questo è opera del Signore dell'impossibile quando qualcuno dice io non posso perdonare il mio consiglio è celebralo festeggialo compra una bottiglia di champagne il prima possibile perché hai scoperto la cosa più importante che tu non puoi e rivolgeti al Signore dell'impossibile e dirgli io non posso perdonare oppure io non posso chiedere perdono non posso non posso cerco ma non posso e chiede l'aiuto e aspetta tu devi festeggiare l'impossibile tu hai raccontato la storia di Tim Guenard che è stato un bambino abbandonato picchiato con una violenza folle e che voleva da ragazzo uccidere suo padre con qualche ragione hai raccontato la storia di René Vigia che è una donna bellissima bellissima gioiosa una campionessa paralimpica senza gambe per una bomba che gliela ha portate via in un attentato a Madrid e che è diventata veramente una fucina di speranza di allegria di aiuto anche di sostegno alle persone fragili si è stato in Colombia come dicevi in Ruanda dove c'è stato il genocidio più trascurato peraltro della storia del Novecento il perdono quindi non può essere uno sforzo dell'uomo perché non funziona le due cose sono vere perché noi dobbiamo fare un piccolo sforzo e credo che questo consiste nel pensare poco e amare molto io non so farlo non riesco a farlo sì puoi devi dire soltanto una parola per perdono dilla di nuovo ok sai camminare allora prova a camminare cerca quella persona sai camminare sì non è difficile allora metti davanti quella persona sai guardare negli occhi sì allora guarda negli occhi e digli la parola com'è perdono ecco vedi che non è così difficile io non posso perdonare io non posso perdonare sì puoi certo che puoi puoi chiedi la forza interiore questo è il dono di questo hai bisogno ma la tua parte è andare da quella persona e abbracciare sai abbracciare non ti freni che poi tu parli hai raccontato casi estremi veramente terribili ad exemplum ma la capacità di perdonarsi ce la giochiamo tutti i giorni no? hai fatto anche esempi tra moglie e marito tra genitori e figli tra amici sì è come una ginnastica quotidiana che dobbiamo praticare quando uno si abitua perché quando ci si abitua da bambini a chiedere perdono e a perdonare anche per cose piccole poi non sarà neanche così difficile chiedere perdono e perdonare in cose molto grandi quindi se si è abituato nella vita magari non succedono queste cose ma possono succedere e questo che si applica il perdono può essere applicato a qualunque delle forme di generosità a qualunque atto di virtù quindi non aspettare di avere un'opportunità straordinaria per praticare l'amore non aspettare di avere qualcuno a cui deve salvare la vita in un fiume puoi salvare la vita oggi ascoltandolo qualche minuto o condividendo quello che hai magari hai una moneta hai qualcosa da mangiare hai il tuo tempo e magari un giorno dovrai condividere tutti i tuoi beni ma magari questo non succederà mai allora se facciamo questa ginnastica di chiedere perdono perché c'è un'altra cosa importante quando uno viene perdonato gli costa meno perdonare quando uno è cosciente è fatto io sono stato perdonato non una volta ma molte volte allora com'è possibile che non perdonerò se io sono stato perdonato tante volte ma perché tu credi in Dio? come posso non credere? per me è più facile credere in Dio che credere in qualcos'altro per me negare a Dio sarebbe negare tutto mi risulta inconcepibile mi risulta inconcepibile dal punto di vista intellettuale in primo luogo io non riesco a capire che il tutto venga dal nulla no non riesco proprio a capirlo perché dal punto di vista intellettuale dal niente esce niente e dal qualcosa esce qualcosa ma da qualcosa non viene qualcuno e io sono qualcuno di più che qualcosa io non sono materia non sono 80 kg di peso o un colore della pelle no sono più di questo percibo che non capo in una caja sento che percibo che sono spirituale che sono spirituale che non entro in una scatola lo percepisco in te in qualunque persona quindi dal punto di vista intellettuale lo spirito procede dallo spirito e quindi tutta questa sorgente spirituale di tutto sarebbe Dio e vediamo che è qualcosa di buono anche potrebbe essere un'idea e allora ti chiedo perché credi nella Chiesa? perché vedo nella Chiesa la manifestazione concreta dell'amore di Dio Dio non ci ama in modo etereo che siamo lì nel mondo dell'idea Dio forma delle squadre tu puoi percepire e sperimentare l'amore di Dio attraverso l'amore degli altri e questo è un riflesso dell'amore di Dio per tutti che cosa è la Chiesa? io dico la Chiesa è l'alleanza incondizionale incondizionata indistruttibile che Dio ha fatto con gli uomini un'alleanza che potrebbe essere descritta così io vi voglio bene tutti voi al punto che non riuscirei a liberarmi di voi e voi non riuscirete a liberarmi di me non potrete dimenticarmi in me neanche se non credete in me o se mi crocifiggete ma continuerete a credere questa è la Chiesa perché diciamo che è universale perché nessuno può dire no a me non mi vogliono bene perché dato che io non credo in Lui o perché io sono cattivo no benvenuto nella Chiesa perché tu non credi in Lui tu sei parte di questa alleanza quello che ti manca è accettarlo ma Dio si è già sposato con te a proposito di sposare tu hai una moglie e hai tre figli tre figli figli sì beato te e condividono la tua fede il tuo sguardo sul mondo? claro quando io vedo la mia sposa non posso non credere che lei è un dono di Dio nella mia vita e quando vedo le mie figlie non posso non credere che sono un dono di Dio nella mia vita e loro cosa pensano? dobbiamo chiederlo a loro direttamente venite perché tutti veniamo viviamo una fede molto semplice molto naturale che si manifesta soprattutto in quello in cui crediamo nel fatto che ci perdoniamo che ci vogliamo bene in modo molto semplice noi condividiamo le preghiere perché Dio non è un quadro una medaglietta che ci mettiamo o qualcosa di adorno sulla parete che tutta la mattina lo salutiamo gli diamo a Dio ti ringraziamo perché c'è il sole perché fa freddo perché fa caldo perché piove gli raccontiamo andiamo a quello che abbiamo oggi oggi c'è un esame di filosofia o c'è un fidanzato e preghiamo per lui o c'è una figlia che è in Irlanda e preghiamo per lei perché è una bella giornata abbiamo degli amici con persone malate abbiamo delle illusioni allora cosa facciamo? dei sogni cosa facciamo quest'estate tutto questo lo condividiamo con Dio e la sera lo ringraziamo per la giornata di oggi o gli chiediamo perdono per non aver amato abbastanza o che ci aiuti a riposare per avere forza il giorno successivo è tutto molto semplice e come dice il Papa è la prima comunità ed è questo è una fede molto semplice è tutto molto naturale molto semplice molto facile grazie Emanuele la colonna sonora che ami di più per i tuoi film qual è? la musica che più ti racconta che ti piace di più di un film che hai fatto così ne scegliamo una le musica c'è un momento in cui la musica fa parte di te perché qualche volta mi scopro con delle sintonie musicali dentro di me non ce n'è una in particolare che si disegua dalle altre il suono del riso della risata è quella che mi piace di più anche il suono degli applausi quando si applaude che strumento facile da gestire ma com'è bello quando qualcuno applaude qualcun altro quindi questi sono strumenti semplici strumenti alla portata di chiunque io dico che il mondo sarebbe diverso se tu ti ci applaudissimo oh che a me sei ben vestita oggi o come fai bene questa cosa o che bella giornata applaudiamo Dio che bellissime nuvole o che colore tutti applaudendo se ci applaudissimo l'un l'altro la vita sarebbe molto più bella più semplice grazie allora spero che tu questo questo sorriso e questa e questa capacità di guardare le cose con questo spirito bambino la porti avanti ancora un po' perché è davvero il miglior regalo grazie ciao grazie grazie a te Monica grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te